Baru è senza ombra di dubbio una delle rivelazioni di questa edizione del GF VIP. Infatti, nonostante sia uno degli ultimi arrivati, si è già inserito bene nel gruppo e, grazie alla sua schiettezza e alle sue battute pungenti, ha conquistato il pubblico. Tuttavia, nelle ultime ore il geffino è finito nell'occhio del ciclone per aver pronunciato una frase infelice nei confronti. Di un'altra inquilina. Di fatti, tutto ha avuto inizio quando il nobile toscano ha accusato Natalie Caldonazzo di essersi rifatta il seno. Ti ho visto in costume e ho notato che hai le tette finte. Ha perciò detto, scatenando immediatamente le reazioni della diretta interessata e delle amiche Jessica Selassie e Miriana Trevisan. Ma stai scherzando? Io finte? Ma come ti permetti, ha infatti risposto la Caldonazzo. Diversa, invece, la reazione della Princess, che ha preferito punzecchiare Barot. Vuoi toccarle? Inutile dire che questa uscita di Barot non è stata per nulla apprezzata dal pubblico. Di fatti. Gli aficionados del programma hanno trovato infelice la frase pronunciata dal concorrente del grande fratello Vip. Che schifo! Nei tempi che corrono, certe pesantezze verso le donne, anche no. Barot è stato volgarotto e pesantemente allusivo. Si legge sui social. Insomma, gli spettatori avrebbero preferito che Barot avesse rispettato maggiormente la privacy di Natalie e si fosse. Risparmiato questa uscita nei confronti della showgirl.